ciao a tutti come state mi auguro bene apro subito una parentesi di inizio video per dirvi di leggere la descrizione è sempre importante leggerla ma oggi ancora di più e di arrivare alla fine di questo video perché c'è una sorpresina per voi spero gradita chiusa parentesi oggi parliamo di egg protein sono delle proteine derivate dall'albume dell'uovo e sono indicate per soggetti che sono sottoposti a uno sforzo fisico intenso chi va in palestra ma anche chi si allena a casa ottime per chi è intolerante al lattosio ed inoltre queste proteine in polvere hanno un buon rapporto di vitamine le vitamine che cosa servono servono a migliorare l'assorbimento delle proteine stesse solitamente quando vengono assunte queste proteine nel post workout quindi dopo l'allenamento ad esempio io finisco di allenarmi faccio il mio allenamento in palestra finisco di allenarmi cosa faccio prende il mio shaker con l'acqua io personalmente le assumo così proteine 30 grammi 30 40 grammi di proteine in polvere con l'acqua ed una banana sono utili anche il giorno dopo l'allenamento perché se mi trovo in macchina e sono fuori mi porto il mio shaker con all'interno 30 40 grammi di proteine sempre allungate con l'acqua e una banana me le mangio mi fermo un attimino le bevo mangio la banana e sono a posto il mio spuntino è stato fatto veniamo alla parte più interessante per voi sono stato contattato da una famosa azienda di integratori alimentari la genesis nutrition e mi hanno inviato delle cose che adesso vi faccio vedere ce l'ho qua queste sono le famose egg protein allora spero di riuscire a farvele vedere bene ok questo è un barattolo da 750 grammi un utilissimo shaker che è questo qua ok questo è lo shakerone tre barrettozze di quelle toast che vi faccio vedere sono queste una due e tre sono barrette proteiche ognuna di questa praticamente con due di queste barrette si va a coprire il far bisogno giornaliero di proteine per una persona normale un simpatico provino che contiene le whey protein non le egg ma le whey protein ed è questo qui e poi cosa molto molto importante il catalogo un catalogo generale prodotti ok questo questo andiamo di non far riflettere questo è il catalogo generale con tutti i vari prodotti scusate tutti i vari prodotti che ci sono all'interno attenzione prodotti sono veramente tanti tanti dai pc alle proteine vitamine c'è veramente tanti c'è da da leggere un bel libricino e sono validi per gli uomini e donne si ma dice zio ma noi però cosa ci torna perché ci ha fatto vedere queste cose quelle te l'hanno mandato a te ok a voi che cos'è che conviene fare e secondo me vi conviene farlo allora io vi lascio il loro sito qui sotto in descrizione quindi il sito della genesis nutrition qua sotto voi potrete acquistare tramite il loro sito quindi andate lì inserite il codice sconto che sta passando in questo momento in sovraimpressione mister Ezio 2000 e inserendo questo codice sconto dopo che avete fatto i vostri acquisti potete prendere le proteine le egg protein e bca e quant'altro andate alla cassa al momento nel momento in cui dovrete pagare vi verrà chiesto di inserire adesso poi vi lascio comunque tutto scritto qua sotto di inserire questo codice inserendo il codice sconto appunto MR Ezio 2000 avrete uno sconto del 20 per cento questo è valido su tutti i prodotti quindi tutto quello che c'è qua dentro tutto quello che c'è scritto nelle piccino qua dentro nel libro qua e questo questo catalogo ok su tutti i prodotti avete il 20 per cento di sconto ma inserendo il mio codice quindi MR Ezio 2000 se acquistate le proteine allora queste famose proteine leg protein vi arriverà in regalo questo comodissimo con questo comodissimo con questo comodissimo shaker ora adesso non c'è dietro niente comunque proteine più questo in regalo fate il vostro ordine una cosa che vi posso consigliare è di abbinare oltre al le proteine oltre alle egg oltre alle egg protein magari anche che ne so delle barrette che ho fatto vedere prima quindi queste barrette che vi potete mangiare non dico come sostituto di pasta perché comunque ci tengo sempre a sottolineare che l'alimentazione viene in primis ragazzi questa è una cosa che voglio sottolineare quindi prima l'alimentazione integrazione lo dice la parola stessa va a integrare l'alimentazione ok l'avevo già detto in altri video quindi io posso consigliare di acquistare queste di prendere magari delle barrette potete mangiare come spuntino e se superate la somma di 80 euro 80 euro di acquisto la spedizione è gratuita quindi non pagate nemmeno la spedizione ok inserite sempre il codice sconto questo qui MR Ezio 2000 se ci sono domande dubbi eccetera eccetera lasciatemi un commentino qua sotto oppure scrivetemi tramite la mia pagina facebook e noi ci vediamo ad un prossimo video un saluto